Oggi siamo qua su pikmin 3 ovviamente in compagnia di mio padre Ciao Ok, questo gioco mi da un sacco di tranquillità Scusa, joystick questo o questo? No, quello nero mi sa Perché è il primo Ma mi serviva pure il coso e non ciuc Te lo mando qui in uso In effetti a quanto fai Io non mi ricordo nessun tasto Perché ci gioco raramente Sicuramente Sì ma infatti è da un bel po' che non facciamo Vai Mi ricordo che una volta avevamo fatto bingo Bingo Ok, comunque continuiamo le missioni che mi ricordo che Ne dovevamo fare E' a tempo le missioni vero? Sì mi sembra di sì Mi sembra che facevamo raffa tutto Perché sinceramente combatti i nemici e abbatti i colossi Sinceramente Sembra un po' difficile Non mi piace poi tanto Che giocatore è uno con questo Tu clicca Ok Perfetto Almeno siamo così Tutti e due Esatto Andiamo di così Questo lo abbiamo fatto sì Ah questo lo dobbiamo fare Sì tre Comunque facciamo tipo perché qui Medaglia di bronzo e qui Medaglia di bronzo Comunque come potete vedere Eh ma sono difficili eh Eh ne possiamo fare soltanto altre tre A meno che comunque Non si sbloccano gli altri No non si sbloccano Questi altri paesi comprano Quindi Ah allora lo sapevo Vediamo un pochino se prenderli o meno Poi Sì 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 Sono intendo sciocco Come potete vedere Scenario di terre aride Abbiamo quattro Ehm Pikmin Quello del fuoco Quello che vola Quello Forzuto Che è viola E quello bianco Quello velenoso Mi sembra Ok Vediamo un po' Tempo dieci minuti Che poi con dieci minuti Non facciamo un cavoletto Devo dire Però ok E perché io non mi ricordo niente eh Perché sono tre persone scusa Allora io dove sto Raccogliamo tutto Qui io comincio a raccogliere Come ne richiamavo scusa eh Ehm Ah beh Con questo ti muovi ok Sì lo so però Eh però Ah beh non me lo dirai a me Ah con qui Ah no questa è una persona sola E per farli lavorà Per farli lavorà ecco In questo modo Io intanto qui questi rossi libri Ah dammi un attimo la tizia Che ti devo dare Questa Ma perché non mi richiama? E che sto a chiamare? E chi ne so Ah no Ho sbagliato io Mannaggia che mi ricordo come cavolo si fa E io perché dopo il poco non ci gioco anch'io eh Butto statizia Qui dentro Oh che è quello? Mi prendi mi prendi Uh Chi c'è? Questa perché non mi riesco a prendere? Come faccio a saltare qua? E con Con la tizia Di con Quella tizia Però aspetta eh Io intanto qui ci butto questi Quelli che lavorano Quindi specie ragazzi Ma non c'era molto C'era molto Ok sto raccogliendo gli altri Inizio Oh ok Perfetto Vedi come questo l'ho preso Ok l'ho preso più quanti 1 2 3 Ma anche quelli rossi ci mettono l'hanno Ah stanno mezzando l'hanno Ma stanno morendo Come stanno morendo? Stanno morendo? Qua? E non so quale ci serve Vediamo questo No Quanto quale no Ok andiamo a prendere qualcos'altro allora Ecco vedi ok Prendi prendi lì Vai Non ci arrivano Ci servono Vedi? Non so come fare Vabbè proseguiamo per di qua vieni Si aspetto che finiscono loro e li richiamo capito? Ok Oh qui ce ne sono altri Bene Allora Lancio lui Vedi No mannaggia Clicco qui Vai E lui Cioè lui intanto io faccio Aspettami tu eh Si Io sto a stare Come facciamo? Eh no bisogna avere due persone Non so come fai a cambiare personaggio tu purtroppo Però mi serve stati Lanciami statizia Chi? Dove? No papà no In acqua Tanto Ecco cliccami Lanciami qui sopra statizia No lanciamela bene Aspetta non ci vedo Non ci vedo Eh ma cambia visuale Eh Non lo riesco L'ho lanciata? No No devi cambiare Devi cliccare questo Ma perché non me la tira? Da lontano Un po' da Più lontano Di Sergio Ma sbrigati Eeeh Non ci sto capendo niente Scusami eh Aspetta un attimo Perché Devo ricambiare visuale Che non riesco a capire Come cavolo si fa Prima di tutto Aspetta eh Faccio così Mannaggia Ma vuoi passare per di qua? 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 Da lì vedi? Da lì dietro Mamma mia Che Che si Che si auguro eh Cioè Come poter Ma non ci toccare più niente Cavolo Ci sto proprio a capire Che è questo Qui mi sto prendendo altri Ma qui ci sono i fragoli d'oro Bene 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 Io raccolgo tutto Nooo Perfetto Ah no Questo lo portano? Perfetto Mi sto uccidendo Ok Io qui sto comunque raccogliendo parecchio Ah ci sono pure quelli che volano? Si si Ci abbiamo 5 minuti eh Cavolo eh Purtroppo abbiamo spregato un po' di tempo Ehm Ma io non Hanno fatto il ponte Non lo so Ma scusa questo dobbiamo devono trasportarlo Dove possono trasportare? Ne servono 18 Fammi riuscire Intanto qui C'era un po' di piccoli Allora tre Ci sono tre Ah ma perfetto Ancuni qua Mi stai ad aspettare Non ho meno la medaglia di bronzo Che ti devo dire? Questi che volano? No me le sono presi io No Cavolo stai lavorando in realtà Stai lavorando E ti le mangio là? Si ok grazie Vai Qui un attimo E andate a vedere i miei eh Ci sono pure quelli che volano Sinceramente io li sto un attimo diciamo Facendo bere Se si dice così Per farli alzare di livello Vedi? Qui stanno lavorando Qui stanno bevendo Bene Ora che avete bevuto Prendete tutte le pepite E Faccio tutti quelli rossi Perché quelli Volanti magari potrebbero servirmi in altre occasioni Oh lì ci sono altri volanti Bene 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 Io li prego quelli volanti qui eh Tanto uno due tre Ok Io prendo questi Si ci rimangono quattro minuti Almeno una betaglia di bronzo Forse 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 ci possiamo riuscire a prendere quella d'oro Quella d'argento però Guarda proprio non lo so Anche perché io ho soltanto quelli volanti ma forse sono più convenienti dicami Uno due tre Oh ho trovato quelli bianchi capi Torino Ok E alle uova? No Sono super veloci Si sono super veloci Ok Ah tu c'hai Lanciali Attenzione Oh ok è morto Non mi servono qui Ok tre Io intanto faccio spaccare il muro Qui sta? Ah si Qui ce ne sono lì E' meglio eh? E' meglio eh si Ma facciate questi tutti Che non puoi servire Stanno spaccare? Gli aspetto qua Sì Bene bene perché qui ne sono Oh lì ce ne sono altri Oh posso lanciarlo Intanto papà Nooo Non ci puoi andare? Ma hanno quasi finito però eh No forse perché mi servirebbero tre persone ma non lo so Vedi sei ma ne va sicuro con due minuti e 42 secondi Vieni Vieni Bene Prenditi un po' anche tu Sono qui eh Come stanno? Ah eccoli qua qua sopra Vai Stavo a togliere tutto almeno Uno Uno Due Perfetto Ah qui c'è un altro ponte Sì intanto qui li faccio lavorare per il ponte ok? Perché non me ne fanno? Se mi aiuti c'è il ponte Ma li fa morire? Che? Ah mi li fa morire però Che cosa? No ne bastano solo tre Vabbè Qui sto costruendo il ponte ma Ok ci sono alcuni molto molto veloci devo dire Oh quella d'argento Ci sono? E questi blu? Questi blu sono molto forti Molto forti Riescono a prendere cose che magari da sole ma ne sarebbe pure una persona Ecco qua Andiamo Ah vedi è stato a prendere l'oro Se non basti un minuto? Si ma comunque abbiamo fatto il nuovo record Perché abbiamo preso la medaglia d'argento Quindi secondo me siamo apposto così No papà non so se E io sto andando a presto a loro ma ormai è finita È un minuto Non è ancora detta l'ultima dai Quelli bianchi è una figata eh Si e guarda quelli volanti a me Ah ah c'hanno una forza eh Eh si abbiamo ottenuto la medaglia d'argento Ora è definitiva che l'abbiamo ottenuta Quindi sono felice Aspetta ci manca poco voglio vedere se riesco a prendere qualcos'altro eh Meno l'oro Aiuto Dobbiamo sbrigarci Si cavolo vieni a prendere il limone Mi prendo tutti quanti ci tiro Si stiamo sbrigando guarda 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 va Quando mi sto buttando Sono tantissimo Guarda abbiamo pulito guarda Vai vai che dobbiamo prendere la medaglia d'oro stavolta eh Eh Dan troppo difficile Difficile? Ma non ce la facciamo Eh guarda però come so veloci Eh lo so Me stanno portando ma non so perché sono cose molto pesanti che portano eh Dove stanno? Ah stanno? Quindi non so se ci sono riuscita No attenzione a prendere il limone No attenzione a prendere il limone Ah sì ok Va Pensavo qualcosa Attenzione a cadere nell'acqua No no basta più di così non possono portarlo Ah Adesso sono rimasta qui stavo pensando a vederti che Eh ormai Tre secondi è finita No mi dispiace perché c'era ancora il limone nella fragola Comunque abbiamo ottenuto guardiamo un pochino un attimo i risultati E beh guarda 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 Ad esempio quelli d'oro guarda un po' le ciliegie sei su sei Ok Tutte e tre tutte e due le ciliegie sia quelle d'oro che quelle normali 8 su 8 e 6 su 6 Bene 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 Le vele 0 su 3 Ah Eh in effetti ci siamo più concentrati sulle cose piccole che sulle cose grandi sinceramente Però medaglia d'argento e abbiamo fatto meglio delle altre volte Quindi forse abbiamo fatto meglio così Ok Ok Sinceramente Quindi possiamo concludere qua? Si perché direi che i propri sono a posto Però ok abbiamo sbloccato anche il quarto che magari facciamo nel prossimo episodio direi proprio di si Quindi io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio Lasciate un mi piace Commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Ciao a tutti Ciao a tutti